Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video dopo un bel po' di tempo in realtà io oggi volevo fare un video un po' più serio quello della mia esperienza sul bullismo psicologico che ho avuto alle medie e alle superiori però questo periodo, questo mese sono piuttosto felice e quindi non mi andava di deprivermi però ve lo farò e infatti come vedete dal titolo vi faccio una haul di tutto, cioè tantissime cose che ho comprato molte cose me le hanno regalate mio padre e mia zia però sono cose che ho accumulato nel giro di veramente due o tre mesi quindi vedrete tantissime cose però sappiate che non è che ho svaliggiato i negozi cioè non è proprio da me anche perché altrimenti il mutuo qui lo paga sapete che non è da me comprare cose ogni giorno anzi qualche volta mi tolgo qualche piccolo sfizio però ci sono cose più importanti come le spese di casa allora, iniziamo dalle cose più recenti ieri mi sono rotti i miei occhiali da sole così allora che ho fatto? li ho presi uguali, sì perché io non cambio occhiali da sole se mi si rompono io arrivato dai cinesi in questo caso e li riprendo uguali, identici perché sì, quelli che mi dite che sembro, sì sembro una mosca però mi piacciono quindi benvenuti di nuovo occhiali nei video anche se sto a casa e piove forse quindi non fate caso alla scritta io amo la primavera perché ormai è come è un must vedere questo cartellino non ho la spugnetta per cambiarlo probabilmente la sostituirò con qualcos'altro comunque veniamo alle cose da mostrare perché altrimenti non finisce più la prima cosa che mi ritrovo davanti che non volevo veramente è un reggiseno ma non è il caso di farvelo vedere vi mostro solamente le pretelline trasparenti che ho comprato da Dezenis normali, carine 1,90 euro però sì calcolate che io ho messo tutte le allora tantissime cose appunto perché le ho prese mesi fa sono senza etichetta e quindi io le ho anche utilizzate a me è un po' contraddittoria questa cosa a me da fastidio quando voglio fare video haul e devo riprendere le cose dalle stampelle perché devo ricordarmi che cosa ho comprato e prenderle nei vari punti dell'armadio ecco invece preferirei molto di più comprare le cose e farvele vedere direttamente così poi posso smistarle nell'armadio solamente che in questo modo dovrei farvi un video ogni tanto invece che un video accumulativo proprio più raramente ecco allora da Tally Whale a parte io amo Tally Whale non lo sponsorizzo né niente però lo sto amando da Tally Whale ho comprato questa magliettina qui con lo scollo cioè con lo scollo non è proprio a collo alto ma non è neanche appunto scollata come vedete grigia con le maniche a tre quarti abbastanza corta arriva all'ombelico e molto aderente mi piace moltissimo cioè costava tipo 7,90 euro e per tutti i giorni soprattutto per questo periodo in cui fa un pochino di vento soprattutto oggi infatti notate i miei capelli come si sono ridotti e la trovo molto molto utile la utilizzo anche di sera quando esco che fa leggermente più freschino quindi questa qui e questa qui la trovate ancora credo poi un'altra cosa che scusate mi trovo davanti vi ricordate le scarpe quelle quelle bianche proprio vecchie ho comprato di nuovo aspettate non so la frase prima quale fosse ma comunque il nocciolo è che ho comprato di nuovo un altro paio di scarpe bianche queste qui che si sono già zozzate ragazzi io le ho prese 10 giorni fa proprio per esigenza si sono zozzate queste le ho pagate 15 euro perché ovviamente hanno la suola che mi fanno sembrare leggermente più 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 alta ecco sì più umana poi sempre talli whale sta piovendo veramente ah vedi allora ci ho azzeccato vedi vedete io potevo fare la meteorologa veramente comunque sempre da talli whale questi li sto usando li ho usati anche oggi infatti mi sono tipo denudata per farvi vedere le cose ho preso se il bottone ok ho preso questi sono costati un po' me lo ricordo perché quando le cose costano tanto me le ricordo questi pantaloni sono di un colore verde militare molto molto scuro barra grigio fumo barra top non ve lo so veramente spiegare però non sono né neri né grigi né verde oliva quindi vabbè sono costati 35 euro però volevo rifarmi un paio di un paio volevo rifarmi un po' di pantaloni per quest'autunno e quindi ho preso questi e mi sono piaciuti perché hanno la particolarità di avere le tasche qui finte con la zip dietro anche hanno le tasche finte insomma non hanno tasche e grazie a stampella se magari ti puoi spostare le gambe un momento che se riesco un attimo a sciogliermi da questi impicci la gamba del pantalone ha questo dettaglio qui ha questa parte con tutte queste rite orizzontali stile un po' cavallerizze queste cuciture qui e invece in fondo la gamba hanno sempre questa questa zip anche questi come gli altri che vedrete sono skinny super skinny però comunque sono elasticizzati e questi lì trovate ancora li ho vestiti tipo sì oggi ancora sul manichino sempre da Tally Whale mi metto questo è ancora il cartellino perché non l'ho ancora utilizzata non so perché mi dà un senso di non lo so di preziosi preziosità sì questa 20 euro me l'ha regalata mia zia è una casacchina sì casacchina smanicata qui davanti ha il pizzo mentre sotto come vedete ha questa fantasia tartan rossa nera e sì classica con questi due laccettini quindi si chiude qui in questo modo qui davanti e ha il pizzo ovviamente anche sul davanti il colletto è nero semplice e niente questa qua mi è piaciuta subitissimo altri pantaloni sempre da Tally Whale perché non lo so da Tally Whale ci sono dei pantaloni che a me piacciono tantissimo ne ho preso un altro paio questa volta sono super semplici non hanno nessuna particolarità sono semplicemente blu blu scuro mi piaceva molto questo colore anche perché mi sono un po' stufata dei soliti jeans quindi ne ho voluto prendere un paio blu scuro questi non ricordo quanto venissero sono stati tutti ho tipo 20 euro e cioè di pantaloni non ne ho mai abbastanza perché alla fine come è successo l'anno scorso ne avevo un paio sempre di Tally Whale solamente che avevo indossato avevo preso sicuramente la taglia più piccola e strap mi si sono tipo strappati tipo uno squarcio grosso così sulla coscia quindi sì avevo bisogno di pantaloni altro paio di pantaloni questo il penultimo sempre da Tally Whale questa volta neri classici senza assolutamente nessun tipo di particolarità anche qui solamente che sono a vita alta arrivano proprio all'ombelico sono questi neri vabbè è inutile perché sono neri classici tutti e tre comunque sono skinny e questi qua li avevo presi perché avevo un evento youtube youtube infatti avete visto anche il video outfit che vi metto nel pallino aspettate qua da questo dove l'ho preso ah sì da MyV del negozio che oggi purtroppo chiude ho preso questo qui lo so non è più tempo però ho pensato che con un pantalone veramente a vita ma proprio alta alta e ci stesse bene insomma carino con la bronzatura che adesso ormai se ne sta andando quindi lo utilizzerò sicuramente l'anno prossimo però era carino e veniva 3 euro e qualcosa OVS invece ho preso questo cappello appena l'ho visto mi è piaciuto perché io sapete qualche anno fa avevo preso un cappello nel reparto uomo di OVS non lo so però col tempo mi è andato piccolo probabilmente la mia testa si è ingrandita e appena l'ho visto questo qui l'ho preso subito tant'è che poi l'ho indossato la sera stessa ma con l'etichetta quindi ho fatto anche una bellissima figuraccia e questo sì adesso vabbè ho il ho la coda però va così carino l'avrò messo anche malissimo perché appunto non mi vedo però mi piace soprattutto con soprattutto con i capelli sciolti ah sì questo non ve l'ho fatto vedere no non ve l'ho fatto vedere l'ho preso lo stesso giorno dei pantaloni neri con cui ho fatto appunto l'evento di youtube lo metto sulla stampella questo è un crop top e non era previsto che io lo prendessi però mi è piaciuto tantissimo ed è questo qua praticamente è tutto velato solamente che ha appunto delle parti di tessuto che coprono la parte del petto smanicato accollato comunque e mi piace tantissimo questo con i pantaloni a vita alta stava veramente benissimo poi OBS questi li amo li ho utilizzati mio padre che fischia a me piacciono tantissimo le tute io sapete la maggior parte delle volte quando esco sto super comoda e mi è piaciuta tantissimo questa tuta di OBS è stretta sopra ha il cavallo leggermente basso e poi ha la gamba comunque non attillata però un pochino si stringe sotto la fantasia cosa sto facendo la fantasia è questa qua così l'elastico in questo modo ed è costata 15,99 questa me l'ha regalata a mia zia grazie zia e mi piace molto indossarla con un l'ho indossata spesso con una canottiera bianca che adesso vedrete e queste scarpe qua che sono zuzze e sono già da lavare ho preso no questo non c'entra niente ok questo è un video di shopping autunnale solamente che quando ho visto questo questo body sapete chi ha i body mio padre mi ha detto dai te lo prendo costava 20 sì c'è ancora il cartellino 20 euro 19,99 ed è fatto in questo modo accollato come vedete totalmente di pizzo lascia questa parte qui bella scollata scende giù appunto normale e poi normale con quale accento e dietro invece lascia tutta la schiena scoperta con questa parte totalmente di pizzo senza nessuna nessun ulteriore strato di tessuto sotto però è bellissimo cioè io in un negozio passeggiando quindi non era proprio previsto c'era una svendita di scarpe queste le ho prese proprio recentemente infatti hanno ancora la scatola questo negozio di scarpe stava probabilmente già chiuso e quindi vendeva tutte le scarpe a 10 euro e ho preso queste qua queste sneakers basse che arrivano fino proprio alla base della caviglia color borgogna carine 10 euro un po' di scarpe insomma il tè zenis ho preso adesso si la vedete sgolcita perché era proprio ammassata con le altre cose canottierina semplicissima bella aderente verde così come l'ho presa anche dove è? no non è qua e l'ho presa anche bianca solamente che sta a lavare ultimissima cosa finalmente che vi mostro è questo cappellino che io mi sono innamorata appena l'ho visto 5 euro e 99 questo l'ho preso io qualche giorno fa ma comunque ancora l'etichetta perché non è tempo di cappellini di lana è questo qui questo nero carino semplice con la scritta made in the 90's stavo dicendo USA ma perché è una è proprio una cosa come se fosse una frase prestampata e vuol dire prodotto negli anni 90 io sono del 91 quindi è bellissimo e quindi questo cioè praticamente oddio ah no ho altre cose i calzini bianchi che servono sempre e poi l'ultimissima cosa che vi mostro è questa tutina questa l'ho presa sempre da da me vita e appena l'ho vista anzi no aspettate c'è un'altra cosa che vi devo mostrare dicevo questa tutina praticamente è allora una tutina intera tipo salopetta appunto però è di tessuto leggermente sintetico leggermente elasticizzato ed è blu elettrico perché ovviamente non poteva essere altrimenti quindi questa ha questo oddio macello vabbè praticamente ragazzi ha il pantalone sotto così è totalmente cioè totalmente è tutta intera e questa l'ho pagata 9 euro non l'ho provata ho detto no la devo prendere nel caso la stringo l'accorcio ultima cosa che ho preso e poi mi potete mandare a quel paese è questa maglietta questa l'ho presa oggi l'ho presa oggi e in realtà volevo comprarmi un po' di biancheria intima da d'OVS perché tezzainista era pieno e ho detto vabbè andiamo d'OVS anche se OVS per queste cose non mi sconfinfera cammino cammino nel negozio faccio così per vedere perché all'inizio ci sono le nuove collezioni insomma faccio così vedo su uno stand di pantaloni una maglietta appoggiata così la guardo guardo la taglia e la prendo così ed è questa 14 euro e 99 uno sfizio me lo volevo togliere e niente ragazzi a mezze maniche scollo tondo bottoncini finti qui totalmente vabbè ovviamente non è trasparente però è totalmente di pizzo qui davanti e sulle maniche mentre dietro è di cotone semplicissimo niente io penso che è carina tutto qua ok qui regna il caos io ho finito di mostrarvi tutto quello che ho preso quindi posso finalmente rimettere tutto nelle stampelle insomma dentro l'armadio io vi mando un bacione prossimamente prossimamente presto vorrei farvi degli outfit per la scuola con le cose che ho comprato perché secondo me sono carine io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao